La Valtellina era enorme, era una donna immensa, aveva braccia e gambe così grandi che sembravano cammini e il collo così largo che sembrava il toro quando tira fuori la rata dal fosso. Eppure di lei tutti hanno un ricordo dolce, direi sognante. Era quello nostro un paese terribile dove tutti litigavano e dalla carossa al mulinone, dal ponte al cimitero tutti avevano sempre qualcosa da ridire e gli odi si accavalcavano con i dispetti e i torti. Quando arrivò nessuno si ricorda, nessuno si ricorda quando la Valtellina cambiò il paese, faceva la marcantina e portava la verdura di casa in casa, ma non la verdura di oggi. I pomodori nascono già in scatola e l'insalata cresce in batteria. La Valtellina s'alzava che neanche il gallo c'era, andava per fossi e non trovava solo radicchi di campagna, ma anche l'erbina per fare i decotti e le piante per gli impiastri. E la mattina, quando spingeva il carretto a tre ruote, che nessuno, nessuno aveva mai capito come la Valtellina potesse pedalare e mandare avanti quel triciclo stracolmo di roba. E spingeva il carretto dalla carossa al mulinone, dal ponte fino alle ultime case del paese. Le donne compravano non solo l'insalata, ma dicevano, il bambino la cagarella, dammi qualcosa per farlo smettere. Oppure, lui l'ha, cioè il marito. Niente, neanche stanotte. Dammi qualcosa per farlo ricominciare. Fino a, le mie cose non vi vengono, ben lasciando intendere quello che non si poteva dire. E lei, la Valtellina, aveva sempre un'erba che risolveva ogni problema. E anche gli uomini, che stavano seduti davanti al caffè della Bianca, la chiamavano. E lei, rispettosa, le dava a loro certe erbine che, unite al tabacco, facevano nuvole azzurrine del colore dei suoi occhi e del profumo dolce, dolce come quella donnona a noi così necessaria. E poi a tutti noi dava un mestolino di una bibitina che faceva a lei, un latte di mandorla, diceva, che un suo parente di laggiù preparava con dei panetti che cavava fuori dai papaveri insieme con un sughino che lei stessa cavava dalla nostra canapa o da una canapa che coltivava chissà dove la Valtellina. E tutti giocavano e bevevano, mentre le virgole di fumo dolciastro riempivano il locale e annebbiavano il sole noioso dei nostri orizzonti. E tutti in paese erano felici, tutti, tranne lei, povera, gigantessa, infelice e dolce. Aveva un uomo che era una bestia, si chiamava Mangon perché da giovane ci voleva veramente un bel attrezzo per soddisfare quella donnona immensa e da vecchio si diceva che usasse un manico di scopa per picchiare quella povera donna, mansueta come una bestia da tiro e dolce come la sua bevanda. Mangon era piccolo e secco e cattivo, cattivo che urlava sempre, l'unico che non beveva e non fumava, non mangiava erbette e non beveva decotti, l'unico che trattava la povera Valtellina come una bestia. Poi un giorno nel paese girò la voce che non si trovava più la Valtellina. Dov'è? Perché non passa che io ho bisogno? Mi serve la robina e che anche il bambino la vuole. E tutti cominciavano ad essere nervosi nella fosa giornata di fine estate, ma è un temporale quest'anno, che quando viene la tempesta spacca tutto. Va, corri, vai a casa da lei che non sia successa una disgrazia e che i santi ci aiutino. E la disgrazia era successa e i santi non ci avevano aiutato. Era là, sul pavimento, il corpo enorme e sfatto e un lamento saliva da quella montagna, come un filo di cui ritrovare il capo. La Valtellina piangeva. La mia vita non c'è più, come faccio? Addio, almeno fossi morta io. E nessuno capiva e poi tutti, proprio tutti, perché tutto il paese era corso lì, cominciarono a cercare Mangò. Dove è Mangò? Dove è finito Mangò? E tutti capirono. Mangò era finito sotto la Valtellina che, cadendo, lo aveva schiacciato sotto il suo peso. In tre, in quattro, in venti, tutti tirarono sulla Valtellina. E infine trovarono spiacicato come una mosca ciò che restava del terribile uomo. Le ossa rotte, la faccia blu, gli occhi di chi si vede arrivare contro una valanga. La Valtellina gli era precipitata addosso e lo aveva travolto, soffocato tra le sue cicciarde, che erano come onde in un mare in burrasca perpetua. Oh, che disgrazia, che destino! Ma che destino è destino! Lei lo ha coppato e ha fatto bene quel lazarone che coi suoi soldi andava ancora a donne e poi la picchiava, che non ci bastavano mai soldi. Ma no, ma no, ha messo male un piede e lui ci è rimasto sotto. No, 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 è stata lei che era ora. Il maresciallo, che era un terone e ce l'aveva su con la Valtellina perché da quando c'era lei in paese non succedeva più niente e lui non aveva più nulla da fare, il maresciallo sposa la storia che era stata lei ad accopparlo. Che la detta Zatoni Palmira Fuggiacinto in Scroccati Valdimiro avesse con premeditazione portato a morte il suddetto Scroccati per soffocamento. E tutti a domandassero chi fosse questa detta e questo suddetto. Per capire poi perché lo spiegò il prete che aveva studiato latino che la detta era la Valtellina e il suddetto mangò e che tutti avevano sempre chiamato così e nessuno sapeva neanche il loro nome da festa. Vennero i carabinieri dalla città e ci vuole un camion, il 501 del comune, per portarla via perché non stava in nessuna macchina e quattro uomini per spingerla su, sul cassone del camion. E mentre andava via tutti la guardavano. Ciao Valtellina, ti abbiamo bisogno. E tutti li presero a litigare, a urlare, a tirare bestemmie. E il prete li chiamò tutti e tirò su una borsa di soldi e con la corriera li portò in città e parlò con un avvocato e questo con un giudice e questo con un altro avvocato e questo non si sa con chi. E il paese era sempre peggio. Il maresciallo per la brillante operazione compiuta era già andato via laggiù dalle sue parti e qui tutti urlavano. Poi finalmente la Valtellina tornò, sempre sul 501 del comune e con un pezzo di carta che diceva che il fatto non sussisteva. E nonostante le privazioni del carcere ci vogliono quattro uomini per farla scendere. E lei, senza una parola, tornò nella sua casa vuota e la mattina era già nei fossi a cercare radici, a raccogliere papaveri e poi a casa a fare le sue polverine, le sue bibittine, che nessuno sapeva cosa ci fosse dentro ma che quando le bevevi le annusavi, le fumavi, stavi così bene. E senza dir niente il paese ritrovò la sua calma. Ma il paese non era più quello. C'era la crisi e i giovani partivano uno dopo l'altro verso Torino. E i vecchi, anche loro partivano per un viaggio ancora più lungo. E negli uni e negli altri sarebbero più tornati. Intanto aveva chiuso il Cinemateatro, la balera e anche il prete veniva solo la domenica a dir la messa nel piccolo paese che moriva lentamente. La Valtellina era sempre più sola e solo io andavo a trovarla e Eremi raccontava tutti i suoi segreti. Come si coltivavano i papaveri e la canapa indiana, come si ricavava la polverina bianca leggera come il talco e come si distillavano i suoi acidi così anticipatori poi di ben altre industrie. Morì tra le mie braccia affidando a me tutta la sua arte così incompresa in un paese così insensibile ed arretrato. E ancora oggi che sono qui nella mia isola protetto dei miei gorilla, al vertice di un traffico un po' sporco, ma veramente globale, mi torna in mente la vecchia Valtellina e tutte le sue ricettine, diciamolo pure così stupefacenti. in mente la vecchia Valtellina è stato un po' sporco, ma veramente globale, mi torna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.